Dobbiamo imparare dalla storia. Dopo la prima guerra, tutto il mondo diceva mai più una guerra e meno di 20 anni eravamo dentro una guerra peggio di quella. Se lì ho visto il primo, morte è nostra, no? Io pensavo subito, da qui io non esco più. Il compito mio è di parlare per questi, per farti non fare le sbagliate, per non fare un'altra volta le strade che loro hanno fatto. E questo c'è il messaggio di oggi, specialmente dopo 70 anni. Io non rischio niente. Loro sono morto, no? Io parlo per loro, no? La mia guerra non è finita. La mia guerra non è finita.